Ciao a tutti, con questo video vorrei rivolgermi a tutte quelle donne sposate, fidanzate, accompagnate, conviventi che sono eternamente insoddisfatte del compagno, del marito che hanno a fianco e che magari sognano che un altro uomo possa renderle felice. Allora, a meno che non ci siano dei gravi motivi che possono appunto essere i soprusi, la violenza, l'egoismo, l'indifferenza, il tradimento e in tutti gli altri casi molto spesso le donne non si accorgono che quello che hanno in casa è sicuramente uguale tale e quale a quello che è fuori casa e tante volte è ancora meglio di quello che loro possono immaginare di poter avere da un altro uomo. Tante volte basta un incoraggiamento da parte della donna, un riavvicinamento verso il compagno, il marito il prendersi del tempo, mettersi vicino, guardarlo in faccia, guardarlo negli occhi anche solo per una decina, una ventina di secondi e vedere di nuovo quell'anima, quel ragazzo che si è conosciuto quando si era ragazze magari, quando ci si sentiva innamorate e se ci si sofferma a guardare in faccia il proprio compagno, gli si potrà di nuovo vedere quello spirito, quello spirito che ci ha fatto innamorare e stabilire così una nuova connessione, un nuovo grado di empatia, un riavvicinamento, fermarsi, abbracciarsi e coccolarsi è molto importante mantenete l'amore sempre vivo, quando uscite con il vostro marito non perdete mai l'abitudine di prenderlo per mano di abbracciarlo, di accarezzarlo anche in pubblico, di fargli un complimento, di parlare bene di lui sono tutti atteggiamenti semplici che però possono davvero migliorare una coppia, migliorare una relazione di coppia quindi donne, non lamentatevi, non siate sempre insoddisfatte, non guardate sempre l'erba del vicino che può sembrare più verde ma guardate la vostra e coltivate il vostro proticello con questo vi saluto, un bacio dalla Pink, iscrivetevi al canale, fate iscrivervi ai vostri amici attivate la campanella, un bacio dalla Pink